E non solo a farli paracadutarli dentro il territorio materano, cosa che immagino tutti sarebbero felicissime, perché comunque è un posto straordinario, con tutta una serie di attrattive, però dobbiamo invece trovare un modo di coniugare queste persone con quello che già sta fatto, con quello che già sta avvenendo qui e di creare una sorta di simbiosi felice in maniera che ci sia un vero legame col territorio, qualcosa che davvero rimanga. Tuttavia, quello comunque rappresenta un modello passato in cui Genova è stata assegnata questa nomina. Noi invece dobbiamo guadagnarcela, dobbiamo proporre delle idee che faranno non soltanto cambiamenti infrastrutturali. Questo è quello che noi dobbiamo dimostrare. Io ne ho visto un altro di Matera, dello sport, eccetera. Uno dei problemi che abbiamo è che ci sono tante cose che dobbiamo trovare in modo di trasmettere poi questa cosa e anche impegnare bene il nostro termine attraverso i prossimi sei mesi per non disperderci in piccole attività frammentarie, ma di presentare un quadro in cui è evidente la partecipazione di tutti, l'inclusione di tutti, ma anche la coerenza, la compattezza di quest'idea. Grazie.